Ciao a tutti, i messaggi della menzogna. In questo video voglio spiegarti quali sono i messaggi che una persona può dire e che significa che sta mentendo, che ti sta in qualche modo mentendo, non sta facendo la cosa giusta, insomma come capire i messaggi della menzogna. Prima però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco e se vuoi delle risposte mirate e precise alle tue domande basta che ti abboni. Abbonandoti al canale potrai ricevere delle risposte precise mirate alle tue domande partecipando a delle live che io faccio e quindi potrai ottenere questo vantaggio. La quota è veramente simbolica. E veniamo al tema, i messaggi della menzogna. Allora, come capire dai messaggi se questa persona ti sta mentendo, se non ti sta mentendo, insomma? Beh, il primo è, diciamo, quando una persona, tu chiedi una cosa e ti risponde una cosa completamente diversa, quando fa finta di non capire. Magari gli dici, gli chiedi un approfondimento di una cosa e siccome lui non sa cosa rispondere, perché magari ha il dubbio che tu abbia delle conoscenze, delle informazioni, e quindi omette delle cose e non risponde proprio niente. Ecco, questo è un qualcosa che... è un qualcosa di importante da capire. Cioè se questo si manifesta, praticamente diventa per te... diventa per te un qualcosa di facile da decodificare, insomma. Quindi quando risponde l'uccele per lanterne o fa finta di non capire, probabilmente, diciamo, che quelli sono un forte indizio della menzogna. Oppure, sempre la stessa tattica, quando magari fai domande, chiedi qualche cosa, insomma, vedi che la persona cambia rapidamente discorso. Cioè inizia a mandare messaggi che non c'entrano nulla con l'altra cosa. E quindi anche questo è un grande indizio che probabilmente ti sta mentendo. C'è un altro modo, sempre che utilizza la persona, è interrompe la chat improvvisamente, dove scambiava dei messaggi e ti risponde dopo parecchio tempo. Perché questo cosa significa? Significa che è andato a recuperare le informazioni, no? È andato a recuperare informazioni che magari doveva sapere, non doveva sapere, insomma, e quindi ti dà una risposta, ma dopo un po' di tempo, no? Dopo un po' di tempo, un tempo molto più lungo della risposta delle altre domande. D'altra parte, questo è quello che anche avviene quando tu parli direttamente con una persona. Quando parli direttamente con una persona, se passa un tempo più lungo per darti la risposta, beh, questo significa che lì dietro probabilmente c'è una menzogna, insomma. È importante capirlo. Poi, un'altra cosa tipica, il messaggio della menzogna, quando ti manda un messaggio che non c'entra niente, cioè è completamente diverso da quello che aveva detto magari tempo prima, perché i bugiardi spesso hanno la memoria non proprio corta. Quindi, e spesso dimenticano, istintivamente rispondono, e quindi messaggi incongruenti, messaggi incoerenti con quello che magari è stato detto verbalmente. Questo è molto importante, no? Se tu parli verbalmente con una persona e poi questa ti scrive cose che non c'entrano niente, beh, lì c'è una menzogna, sicuramente sottostante. Ecco, queste sono le tipiche, diciamo, caratteristiche che tu puoi cogliere nei messaggi della menzogna. Se presti un po' d'attenzione, dovresti riuscire a coglierli abbastanza facilmente. Lascia sotto scritto nei commenti quello che ne pensi, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, e se hai bisogno di risposte precise alle tue domande, alle mie, eh sì, alle tue domande, puoi abbonarti a una quota simbolica al canale e riceverai tutte le risposte che desideri. Ciao a tutti!